è nato un nuovo grandissimo, diciamo, appuntamento con la Hobby & Bobby Hey amico, cosa fai seduto sul divano con il culo da portinaia e le calzine bianche di spugna? Dai, basta strozzare il tuo serpente monocchio con le foto di Belen che hai trovato su TV Sorrisi e Zuzzone Corri in edicola e acchiappati una nuova entusiasmante raccolta della Hobby & Bobby Tutte le bestemmie che non ti saresti aspettato Fratelli d'Italia! Collezionane tutte, oltre 40 fascicoli audio e video con sfoghi senza censure di VIP Personaggi dello sport, della politica e della TV Signori, dopo 10 settimane bisognava pur dare un nome, il nome del vincitore Collezione e saluti al signore dei campioni di rally Porta e al cartello si testa 3 Si testa 3, Lucchina, ai culo la c***a Elettricisti, imbianchini, muratori e semplici cittadini che incappano in situazioni difficili Tutte le bestemmie che non ti saresti aspettato In edicola è il primo fascicolo In omaggio l'audio esclusivo di Mazzoni che si infuria con i colleghi per un intervento venuto da schifo Ma dammi sto c***o sfumino Che almeno mi regolo la voce E il papa che inciampa sulle scale sante in piazza San Pietro Tutte le bestemmie che non ti saresti mai aspettato È una raccolta Hobby and Bobby Bello, lo voglio Ecco, ne manca un pezzo di una diretta di una voglia Lascierei perdere, andiamo che è tardi, forza